La speranza è l'ultima a morire. Ora vuoi farmi credere che vieni a colazione così? Sì, perché? Sto ancora aspettando. Cosa? Le tue scuse. Per? Avermi sfruttata per i tuoi fini. Che c'è da ridere adesso? Io dubito che tu possa essere utile ai miei fini. Ieri al porto non la pensavi così? Infatti è stato un errore. L'uomo che mi ha indicato sai cosa nascondeva? Un amante. Ecco cosa serve la tua sinestesia. Non cercare di dare la colpa a me. C'è un caso importante con un ragazzo che sta lottando tra la vita e la morte. E tu pensi a tutt'altro. Io stavo cercando di intercettare un nuovo sbarco Palermo, Viola. E non ci sono riuscito. Ti ho chiesto un contesto. Magari avrei potuto aiutarti. L'hai detto tu, no? Tu non sei un poliziotto. Tu sei solo Miss Italia. Intanto Miss Italia ha capito chi è stato a spingere Luca. E non si tratta di Giuliano. E chi è stato? Sentiamo. Nunzio, suo padre. E perché lo pensi? Sei tu quello che indaga, no? Tu sei solo. Tu sei solo.